ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video video di nell'art dove andremo ad realizzare il coniglio con l'idea lice del paese delle meraviglie solo il viso un po scusatemi c'ho anche un po di mal di gola e il viso un po il busto insomma allora i colori che andremo a usare è questo qui che non è di passione unghie che si chiama apple green per andare a fare tutta l'unghia però praticamente sempre due passate per fare tutta lunga monofasico in verde poi andremo a utilizzare il poor white fast f01 bubble gum che è un rosa scusate qui mi si è sbordato tutto dopo lo pulisco che il fast f56 poi due tipi di rosso quindi andremo a utilizzare il red diva che il fast f03 il chianti che è il classic c01 surf un celestino fast f54 e poi son black che fast f16 dopo comunque colori mano mano che li apro mentre sto faccio il video comunque vi faccio vedere niente adesso vado ad applicare apple green quindi questo bellissimo verde su tutta l'unghia e inquietitato preparo l'unghia e poi ci vediamo dopo alla realizzazione insomma di questa nail art insomma vedrete direttamente mentre faccio il coniglio ecco quindi ci vediamo dopo Musica 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 Grazie a tutti. 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 Mi piace molto come mi è venuto, non è malvagio. Fatemi sapere anche se a voi vi è piaciuto questa nell'arte e fatemelo sapere sotto nei commenti. Io niente che dire, vi spero che vi piaccia. Se è stato così mettete un'altra, se è stato così mettete il pollice in su, sotto il video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.